È stato presentato oggi, presso il Palazzo Municipale di Alto Passo, Lucensis 2013, un piano di simulazione del terremoto che si svolgerà sul territorio comunale a partire dalle ore X di giovedì 14 fino alle 13 di domenica 17 marzo. All'incontro erano presenti il sindaco Maurizio Marchetti e vertici della protezione civile di Lucca. Si tratta, spiega il presidente lucchese del Movimento dell'Associazione di Volontariato Italiano, Mauro Francioni, di un'occasione per sperimentare i diversi scenari prevedibili ed acquisire dati utili per promuovere la pianificazione di emergenza a livello locale, sottoponendo a verifica noi stessi la nostra potenzialità di intervento, la nostra capacità di lavorare insieme. Non mancheranno disagi e difficoltà, vedremo, conclude Francioni, cose che vanno bene e soprattutto tante altre da correggere. Lo scopo dell'esercitazione è quello di dimostrare che il sistema di protezione civile prevede una sua attivazione, con l'impiego coordinato delle strutture operative sia a livello centrale che a quello periferico. Si vuole soprattutto verificare la capacità di risposta dei volontari partecipanti di fronte agli scenari predisposti. Il terremoto nella Valle del Serchio è infatti un'emergenza classificata di tipo C, che per intensità ed estensione deve essere fronteggiata con un grande utilizzo di mezzi. 14, 15, 16 e 17 sono i giorni dove si svolgerà questa importante esercitazione nazionale, dove in qualche maniera si interverrà nel territorio, e qui dico ringrazio ovviamente la Prociv principalmente per questa organizzazione. ci saranno diversi mezzi, diversi volontari, e i volontari saranno oltre mille con un certo numero di automezzi predisposti per gli interventi, che riguarderanno tutto il territorio del Comune di Alto Pascio.